bear off tavola chiusa l'avversario ha portato fuori 6 pedine siamo sul punteggio di 11 10 per l'avversario 3 away 2 away vediamo come ho ragionato in partita 6 1 si scopre mi serve un 4 tiro il 4 eccezionale 3 6 8 9 pedine o il 60 per cento non posso occupare ovviamente doppio 4 1 2 3 4 4 e 3 2 1 però allora io qui ho il 70 secondo me questo è un double allora vediamo un po' che bel minestrone ho combinato innanzitutto una precisazione se il bianco ha tavola chiusa e i 3 spare nella posizione ottimale quindi 6 5 4 le possibilità di vittoria sono con 5 pedine dell'avversario fuori 78 per cento quindi borderline take o pass con 6 pedine dell'avversario fuori 70 per cento non certo 60 per cento come ho detto inizialmente ma poi mi sono corretto ho detto 70 per cento alla fine però ci sono da considerare in questa posizione due aspetti molto 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 importanti uno che non ho evidenziato nella durante i commenti durante la partita però avevo comunque bene in mente il take point dell'avversario su questo punteggio è molto alto il 26 per cento quindi il punto di accettazione è ben diverso da quello della posizione standard money game che è il 21 e 5 per cento ma l'aspetto che ho totalmente trascurato è che le percentuali che ho detto prima percentuali di vittoria con tavola chiusa valgono se l'avversario che ha tirato fuori 5 o 6 pedine ha le pedine nella sua tavola nelle punte basse 1 e 2 e quindi non perde sicuramente degli altri tiri nel bear off nel nostro caso ha la casa 1 vuota perché ovviamente c'era la mia ancora giocavo un ace point game sapevo ma non ci ho minimamente pensato che in questo caso le percentuali di vittoria mie di chi ha la tavola chiusa aumentano ma non avevo mai approfondito di quanto queste percentuali aumentino quindi ci sono questi due aspetti terzo aspetto io ho considerato soltanto il take point ma ovviamente devo cubare anche un po' prima quindi se il take point dell'avversario era il 26 per cento con probabilità di vittoria anche al di sotto del 74 per cento avrei dovuto cubare vediamo un attimo l'analisi di xg in questa posizione vedete che ci dà il 74 e 5 per cento e non abbiamo ancora la posizione ottimale non è detto che la raggiungeremo questo perché il gap sulla casa 1 è molto importante addirittura se raggiungessimo la posizione ottimale di bear off quindi con gli spero nelle case 6 5 4 come abbiamo detto le probabilità di vittoria salirebbero intorno al 77 per cento quindi diciamo che io ho sbagliato i ragionamenti per diversi per diversi aspetti non ho considerato il fatto che avrei dovuto cubare comunque un po' prima ma soprattutto non sapevo e ho comunque trascurato il fatto che con la casa 1 libera le mie percentuali di vittoria aumentavano per cui avrei potuto tranquillamente cubare immediatamente una volta colpita la pedina avversaria e sarebbe stato un pass per l'avversario adesso non cubando in questa posizione ho rischiato di tirare dei dadi non buoni ad esempio il doppio 5 con cui avrei dovuto portare due pedine sull'uno sulla casa 1 e uscire con una sola pedina quindi diminuendo notevolmente le mie probabilità quindi avrei dovuto cubare assolutamente prima in questo caso non dovevo più ritardare prima ok non c'era nessun problema perché potevo cubare avevo sempre il 100% di possibilità di cioè lui doveva sempre passare l'equity era 1 non c'era alcun dubbio adesso no sto sto rischiando infatti vedete che ho perso equity in questa posizione conclusione devo assolutamente approfondire e seguiranno dei video di approfondimento appunto come variano le percentuali di vittoria a seconda della posizione non ottimale sia del giocatore che ha la tavola chiusa sia del giocatore che ha portato fuori le pedine perché questo è estremamente importante sono posizioni che si ripetono anche abbastanza spesso ed è fondamentale conoscere esattamente concetti e probabilità spero che sia stato interessante e non noioso per voi sicuramente per me uno spunto di approfondimento notevole grazie a tutti